Chi è questo tizio appeso? Questo è il tuo caro amico Ma chi è? Ma non lo conosco Ma come non lo conosci? Eh non so chi sia Vabbè, devo andare avanti, devo premere il pulsante Sì ma pensaci bene, potrebbe morire Ma va, ma chi lo conosce questo? Ma esplodi Sta morendo? Dai che devo andare Dai che mamma oggi ha detto che faceva la carbonara Dai che sta morendo, su, veloce Perfetto Mi fai paura? Sì grazie, me lo dicono in molti